Un saluto a tutti, siamo nuovamente in compagnia di Mariella, ambassata di Saracino e oggi andremo a parlarvi della pasta top della Saracino Sì, la pasta da copertura, la nuova formula, Stefano, disponibile in 14 colori, quindi già colorata non abbiamo bisogno di perdere tempo per colorarla, non abbiamo bisogno di aggiungere l'interno CMC perché è una formula straordinaria che vi consente di stendere allo spessore di un millimetro ha una grande elasticità e quindi ci permette di fare grandi lavori in pochissimo tempo e con pochissima quantità di prodotto Io l'ho scaldata, questa, e desidero realizzare un simpatico effetto decorativo con la nostra foglia oro che realizziamo stendendo lo sweet lace, in questo caso dorato, sul tappetino di silicone l'abbiamo cotta per un minuto alla massima potenza in microonde e questo è quello che ne viene fuori adesso, aiutandoci con il gel neutro, il cake gel che ha una colla edibile andiamo a spennellare il cake gel sul foglio dorato lo applichiamo sopra e iniziamo a stendere intanto Stefano, perché non hai nulla da fare, mi stendemi un po' il colisciolo con uno stato sottile di cake gel ecco guarda Stefano, che bello effetto decorativo realizziamo stendendo il foglio oro, vedo che anche con uno di zucchero vero, assolutamente non utilizzo nulla stendendo la pasta top, strappo il foglio oro e do un effetto decorativo molto molto simpatico ti basta che lo faccio sulla parte superiore o così? assolutamente, come dicevo Stefano, se stai utilizzando una torta perfettamente congelata e soprattutto stuccata molto bene, addirittura con un millimetro di spessore puoi ricoprire le tue tante quindi questa la posso usare anche per ricoprire una torta... congelata, certo, abbiamo scolpito recentemente una torta di mousse una torta scolpita realizzata solo con la mousse lo spessore della pasta di zucchero, da cosa dipende su una torta? ma da quanto bravi siamo a stuccare la torta, se la torta sotto presenta tanti difetti è ovvio che bisogna mantenere uno spessore più elevato, va bene? dipende esattamente dal lavoro di stuccatura che abbiamo realizzato sotto abbiamo senso la gelatina anche laterale? certo ecco, con queste simpatiche placchette abbiamo realizzato delle placche di zucchero per ricoprire i nostri biscotti per esempio Stefano guarda, la cosa bella poi tra l'altro è che io sto lavorando senza utilizzare arido, senza utilizzare zucchero vedo, vedo ci sei? bravo Stefano faccio in maniera un pochino più... bravissimo e guarda, se poi voglio divertirmi ulteriormente con un po' nel nostro pump powder che è questo liquido che potete tranquillamente spruzzare con la nostra torta così polverina montiuso esatto che è diverso da alcuni pump che trovate in commercio che presentano all'interno solo delle polveri perlescenti i nostri sono veri e propri glitter alimentari dovremmo fissare lo in materno in giro non si muove e copriamo la nostra torta grazie Stefano questo possiamo anche rimuoverlo se non mi serve grazie ecco qua tiro e chiudo tiro e chiudo hai visto che bella? molto mi piace questo effetto dorato imperfetto sembra molto molto bello mi ricorda un vecchio tessuto io ho passato anche in mezzo ai tessuti abbiamo un coltello Stefano abbiamo un coltello certamente lo prendo subito e medialmente eccomi qua grazie con un coltellino perfettamente perpendicolare andiamo a tagliare la nostra torta normalmente Stefano c'è chi usa una spugnetta abrasiva sugli angoli del polistirolo per sfondarlo esatto noi invece non abbiamo assolutamente limato gli angoli del nostro polistirolo e potete utilizzare addirittura per lavorare sulle torte congelate va bene? bene bene con anche questo video abbiamo visto quali sono i vantaggi di utilizzare una pasta top della Salucino vi aspettiamo al prossimo video per unisnc.it grazie Maria ciao